Star Wars Bad Batch Star Wars Bad Batch Star Wars Bad Batch Tempesta malvagia Certo, sì, 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 sì Ma forse Ecco l'aveva conosciuto, non ricordo La moglie e il marito Cioè, lui è il clone Rex è passato da qui ieri Eh, sì Una nuova amichetta Vai, vai Lo vede un po' come il papà, Hunter No, cos'è, tipo Torello Non le fanno prendere la palla È un clone difettato Proprio come noi Penso sia una puntata molto chill questa Un po' di transizione, credo Ipotizzo Ci sono soldati laggiù Crediti imperiali, quindi Ufficialmente creati Eh, ma non è quello che vuole fare Hunter, mi sa La pace porterà nuove opportunità e prosperità per tutti Insomma, non mi sembra Ho prenotato un viaggio su questo trasporto Nessun viaggio interplanetario Senza codice HD Il codice HD Ad esempio È un codice identificativo È quello che usa pure Mando Quello che usa Mando Per rintracciare Baby Yoda In The Mandalorian È andata oltre la recensione La prendiamo dopo Perché? Che succede oltre la recensione? Sono trappole? Dov'è la palla? Ok L'ho presa! Ah Simpatico Vai Hunter, aiutala Scappa Ma magari ritorna con i rinforzi Col branco Ti rendi conto che poteva ucciderti? Calma Sei ferita? Ha ragione, ha ragione Cioè, deve essere più tranquillo Certi bambini potevano dirti Non andare lì perché Cioè, senza dir Faremo salire Cat Su, e i bambini su quella navetta I bambini Se me vuole mandare anche Omega Però sulla navetta Vuole farla adottare da loro Oddio come è Diversa senza quel Quel ciondolo in testa Lei non è un soldato Quando lascerete Saluka mai Voglio che Omega venga con voi Eh, visto Non possono perché sono soldati Non sono genitori, diciamo È quello che le serve Però lui ovviamente dispiace Non lo so se lei accetti questa cosa I cloni ora controllano lo spazio porto Potremmo introdurci nella loro rete E replicare i codici Stai dicendo di chiamare le autorità E lasciare che ci sequestrino la nave Si Si nascondono dentro Che cosa hai fatto? Eh, però almeno parlatene tutti insieme C'è solo un piccolo problema Omega è a bordo della nave Io penso che sia un buon piano Eh, sì R tutta male Non mi sorprende che sia abbandonata Voi credete sia abbandonata Ma invece non è per niente così Facile Eccoli qua Tutti gli hard disk Eh, non penso che sia una buona idea Sai Hunter Che succede? Previsto? Dove sono finiti i disk Eh, le ha presi Omega 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 Il tuo piano geniale Sembra piuttosto deludente al momento Un pochettino Un pochettino I codici stanno arrivando Con Omega Vuoi dire da sola? Eh, sì È scappata Gamatissimi Però almeno lei può andare a consegnare i codici Ciao A casa piccola unità R2 Il tuo codice a catena cittadino Ce l'ho proprio qui Oh, giusto Ce l'ho nell'altra mano Geniale però Boh Oh, quello robottino dietro Me lo ricordo Come modello Te che per sbaglio ha fatto 5 codici al posto di 4 Come? Non glielo hai detto Eh, 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 eh No, questa è sempre la solita domanda No Io voglio stare insieme a voi Devi andare Omega Per il tuo bene Sicuramente la rivedremo, eh Non è che È un fanno brutto? Ah Eh Che ansietta, oh Andiamo, andiamo Pensavo di che se no E scappasse da loro Ah, la va a rompere a mani nude, eh Facile Omega non è tornata Eccola C'è qualche problema Tu sembri Servono rinforzi al deposito Oh, cazzo L'avevano quasi sgamato L'avevano quasi sgamato la somiglianza con il clon Cioè, con i cloni Perché lui ovviamente è identico a loro esteticamente Oppure pensava a Django Fett E ora quindi dove si va? Ho lasciato Camino insieme a voi Ed è qui che voglio stare Sì Insieme E se è qui che vuoi stare Sei la benvenuta? Adora è qui che starai Ah, ok Lui vuole diventare un papà Finita Va bene Va bene Un episodio tranquillo di transizione Pensavo servisse a smerciare via Omega Invece no È servito a Introdurla ufficialmente dentro la squadra Quindi prossimo episodio Durerà, quello mi sa, 30 minuti O 33 C'ho un vuoto Comunque ci sarà la prossima settimana Al prossimo venerdì Fino al 13 agosto Dovrebbe durare la serie Quindi Da qua Ogni venerdì bene o male Ci sarà Ci sarà la reaction da fare Ci sarà la puntata cash Eccetera eccetera Per chi è su YouTube Grazie mille a tutti per aver visto questo video E noi ci vediamo sempre tra le stelle Scatush